Presidente, un bel momento questa lezione davanti agli studenti del campus, innanzitutto cosa ha significato, che emozioni, sensazioni da parte sua e poi gli insegnamenti che si sente di poter dare a questi ragazzi? Io non ho niente da insegnare a nessuno, io ho da raccontare la mia esperienza e la mia esperienza è quella di un imprenditore nel settore agricolo che ha studiato giurisprudenza, si è lavorato in legge e che poi ha deciso di fare il lavoro dei nonni ma che ha trovato nello studio che ha fatto tante utilità che mi fanno dire agli studenti che studiare è importante, che la competenza è importante, che conoscere è importante e che il privilegio di vivere l'università del Piemonte, l'università di Torino qui a Cuneo è un privilegio grande perché questa è un'università di grande qualità e di eccellenza ma è anche un'università che ha la possibilità di mantenere il rapporto umano e soprattutto il rapporto col territorio. Davanti a me c'erano gli studenti ma c'erano anche alcuni tra i più grandi imprenditori della provincia grande ma del Piemonte e anche d'Italia a testimonianza di come questa università non sia una bolla a sé stante ma sia invece un qualcosa di perfettamente integrato con il territorio e che darà garanzie di successo ai giovani che qua troveranno il cronamento del loro percorso di studi.